Ti do il benvenuto nel cuore del progetto di Cani per Amici e ti presento il videocorso Educa il tuo cane. Educa il tuo cane è l'unico corso, o come preferisco chiamarlo io, video percorso, che ti insegna prima a comprendere il tuo cane, poi ad educarlo e a risolverne i problemi, in modo semplice e rispettoso. E poiché è un corso veramente completo, molto più della somma di tutti i videocorsi che vedi su questa pagina, ho deciso di crearti un video speciale che te lo possa spiegare nel dettaglio e che ti possa anche mostrare che cosa ne pensa chi ha già fatto questo percorso, perché le loro parole valgono molto più delle mie. Clicca qui e scopri tutto! Ciao!